Lazio-Juve, olimpico infiammato, dato sugli spettatori. Roma e i tifosi della Lazio pronti ad una grande notte. All'Olimpico arriva la Juve e lo stadio si riempie per dare carica alla squadra di Maurizio Sarri. Attesi oltre 50.000 spettatori, di cui almeno 40-45.000 sono laziali. Si contano 25.000 abbonati. Più i circa 2,000 abbonamenti cucciolone riscattati. Per Lazio-Juve c'è tanta disponibilità in curva maestrelli. Per ora aperta solo i tifosi della Lazio che possono acquistare fino a quattro tagliandi a testa. Le parole di Marco Canigiani, responsabile marketing. E la società bianco-celeste sta studiando anche un pacchetto per incentivare le presenze allo stadio nel rush finale che vale la Champions. Tutti allo stadio per sognare il quarto posto. C'è voglia di Lazio, di stringersi intorno alla squadra nel momento più importante della stagione. Virgola.